Musica Buonasera e ben trovati con noi oggi il professor Bruno Di Giacomo Russo, esperto costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università Bicocca di Milano, autore di moltissime pubblicazioni e un ritorno negli studi di Telemonte Neve. Bentornato. Buonasera direttrice, buonasera rispettatori. Grazie. Vorrei subito partire con la sua ultima nomina, il Consiglio regionale delle ACLI Lombardia, l'ha infatti eletto fra i quattro segretari di presidenza che affiancheranno il presidente Martino Tronchetti. Per lei è sicuramente un riconoscimento personale del suo percorso, delle sue competenze e anche della sua cultura, ma anche un riconoscimento credo per il territorio valtellinese. Già presidente delle ACLI Sondrio e già nel Consiglio nazionale, ora un incarico importante. Sì, grazie, mi fa molto piacere. Un incarico operativo, come dice il nostro presidente, le deleghe sono il welfare, la sanità, la famiglia e la formazione. Deleghe intorno al quale dovremo ragionare su un futuro non tanto lontano, un futuro molto vicino, partecipare a una ridefinizione del welfare e contribuire in maniera particolare a quello che è il tema della formazione, della formazione professionale. Mi ha fatto molto piacere quando il presidente mi ha proposto e mi ha sottoposto all'elezione del Consiglio regionale e è un bel carico di responsabilità. Ci mettiamo in gioco già da lunedì con la prima presidenza regionale e proviamo a costruire il nostro programma. Vuole spiegare ai nostri telespettatori chi rappresenta in provincia di Sondrio e più in generale a livello nazionale questa associazione? L'associazione Leacri, associazione cristiani lavoratori italiani, nasce alla fine degli anni del 48 da questa dicotomia, da questa separazione dall'organizzazione sindacale CIS da cui poi nasce il sindacato. Noi siamo un'associazione sindacale, non siamo un sindacato in senso stretto, facciamo attività attraverso i circoli, nei territori, valorizziamo quelle che sono la socialità, la solidarietà, la fratellanza, con una serie di attività nei circoli. In più, da molti anni offriamo dei servizi, il servizio di CAF, il servizio di patronato, che ha lo scopo di andare incontro alle esigenze delle famiglie, degli anziani, dei lavoratori. La particolarità delle Acli che si pone rispetto al tessuto sociale e economico con un intento molto di apertura, il nostro scopo è quello di essere di ausilio, di aiuto alla cittadinanza. Il nostro obiettivo è proprio quello di creare sinergie, sinergie dal punto di vista dell'associazione e di soddisfare i bisogni dal punto di vista dei servizi. Questo ci smarca un pochino da quelli che possono essere individuati altri competitor, perché abbiamo una natura prettamente benefica in questo senso. Abbiamo anche un approccio, anche in termini per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi, molto generoso, nel senso che il nostro scopo non è quello di incamerare somme, ma è quello di fare un servizio alla società. Si discute molto in queste ore del blocco dei licenziamenti e il presidente di Confindustria Lombardia, Bonomi, ha invocato una norma ad hoc per risolvere questo problema e per salvare il mercato del lavoro. Che cosa ne pensa? Allora, si sa che, al di là del pensiero del presidente di Confindustria, lo stesso neo-premier Draghi ha una visione che rappresenterà a un certo punto una rottura col passato. Nel senso che il tema della sospensione, del divieto di licenziamento è sul tavolo di Palazzo Ghigi, perché nella prospettiva di fare che cosa? L'idea è quella non più, a meno dalle letture che faccio io, non più convivere con il virus, quello che può essere stato una fase emergenziale, è quello di annientare la diffusione, la pandemia, e ricominciare da un recovery plan nuovo che verrà ridisegnato. Il tema del divieto di licenziamento come la proroga della cassa in deroga sono tempi, viaggiano allo stesso binario. Uno scade il 31 marzo, l'altro scade il 30 aprile. È chiaro che questo governo, anche su osservazione dei Confindustria e altre associazioni categorali, vuole lanciarsi verso una politica che sia non più di difesa, ma di attacco, nel senso che a un certo punto si creino delle opportunità per ricominciare a lavorare come prima. Bisogna, quello che si pensa, lavorare sul fatto di ridisegnare gli ammortizzatori sociali. Che cosa vuol dire? Che inevitabilmente ci sarà una fase transitoria. Dalla notte al mattino non si potrà sospendere questi due, terminare l'andamento su questi binari, perché sono stata l'ossatura in questo momento di un tessuto lavorativo e sociale in grande difficoltà. Però in prospettiva, da qui all'estate, ci sarà un'evoluzione verso un sistema ordinario, non più così derogatorio. Come giudica quanto fatto sino ad oggi, in questi pochi giorni, dal neoeletto presidente Draghi? Noi stiamo vivendo una profonda crisi istituzionale, ma anche della giustizia e dell'economia. Ma in che fase siamo di tutto questo? Questa è una domanda molto interessante, ma di grande profondità e complicata. Nel senso che la pandemia ha mostrato tutte le debolezze di un sistema economico e sociale, ma anche istituzionale. Immaginiamo, anche solo per deformazione, e mettono in evidenza le contrapposizioni evidenziate tra regioni e lo Stato nella gestione, che riemerge il tema del federalismo, del rapporto tra Stato e regioni. Siamo in una fase in cui non dovremmo essere così, nel senso che, fatta una fase emergenziale, condotta, come è stata anche dall'esterno, da altri paesi riconosciuta, in maniera, per essere una fase emergenziale, anche in maniera più che soddisfacente. È chiaro che a un certo punto bisogna programmare un ritorno alla normalità. Siamo in una fase in cui si vocifera di un lockdown rigido e complesso, lungo, breve, di restrizioni. Oggi c'è sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM. Draghi ha una visione chiara. La visione chiara che è con due compiti chiari che il Presidente dell'Eco pubblico gli ha dato. Gestire adesso la vaccinazione di massa e farlo il prima possibile, e il problema è l'assenza dei vaccini, e riscrivere un recovery plan che abbia una testa, una coda, ma soprattutto abbia un, io dico sempre che il problema non è che cosa fare, ma è come farlo. Perché la destinazione di somme è così importante, lo si può fare facilmente a tavolino, ma bisogna declinare tutto un funzionamento che porti a un aspetto fondamentale. Io lo sintetizzo con la parola generativo. La Commissione europea è chiara nella bocciatura del primo recovery plan e del secondo. Nel primo perché era troppo generico, nel secondo perché mancava una declinazione, una cabina di regia. È chiaro che il nostro Presidente del Consiglio si prenderà il suo tempo per riscrivere, però quello che bisogna rispettare, il parametro più importante, quello che bisogna investire i soldi per generare un modello economico, che sia fruttifero, che sia funzionante, che sia strategicamente di sviluppo. Non si può pensare di spendere tanti soldi nella contingenza dell'emergenza e non guardare al di là, perché i soldi vanno restituiti, i soldi andranno restituiti nel momento in cui l'economia cresce. Professore, non si rischia di aumentare quel divario già particolarmente evidente tra ricchi e poveri con questa linea di governo? Allora, io ho apprezzato molto diverse enunciazioni del Presidente del Consiglio. Uno, il quale credo molto anche nel mio impegno scientifico-accademico, è quello che quando il Presidente del Consiglio dice sì, oltre ai 209 miliardi del recovery plan, io voglio implementare un sistema efficiente sull'utilizzo dei fondi strutturali. Qui bisogna capire a un certo punto che gli interventi a pioggia, gli interventi indiscriminati, non portano a molto. Draghi non crede molto nelle indennità, così come è stato fatto finora. Non crede molto che il sistema della proroga della cassa integrazione inderaga possa portare a un certo punto a dei vantaggi. Bisogna creare delle opportunità di sviluppo e per fare questo bisogna avere delle progettualità. I fondi strutturali europei, che si basano su principi di coesione territoriale, portano degli obiettivi, obiettivi a breve e a lungo termine, ma bisogna darsi degli obiettivi. Non si può pensare semplicemente di spendere dei soldi per tamponare al momento la fuoriuscita. Ma bisogna investire. Bisogna investire nel futuro. Tutti ne abbiamo parlato, anche un po' a vanvera, professore. E tutti abbiamo detto, ma tutto questo è legittimo e anticostituzionale. Ci dica, quanto fatto da Conte, in particolare le misure da lui adottate attraverso il DPCM, si sono rivelati anticostituzionali oppure la legge delle leggi è sempre stata rispettata? Allora, questo è un tema molto tecnico e molto dibattuto adesso nella dottrina, nel senso che c'è stata anche iniziativa a mettere in mostra che la forma, lo strumento utilizzato dal governo del DPCM, essendo una fonte secondaria, non essendo una fonte primaria, non sia la fonte corretta per arrivare alla limitazione delle libertà. Perché qui si parla di limitazione delle libertà, la limitazione all'istruzione, la limitazione alla libertà di circolazione, che è quella sul quale incide di più. È chiaro che la Costituzione, rispetto ai diritti, ha una previsione garante dei diritti e prevede che l'intervento sia legislativo. Qui è dibattuto poi se ci sia in realtà uno stato di emergenza e di che tipo. Perché noi, a differenza della Germania e degli altri paesi, abbiamo semplicemente l'articolo 78 che parla dello stato di guerra, semplicemente, è un articolo molto importante, dello stato di guerra per cui viene proclamato. Questo decreto che ha la proroga fino al 30 aprile è che decreta lo stato di emergenza, lo stato di emergenza in cui si trova lo stato italiano. In base a questa normativa e in base al riflesso di una normativa comunque adottata dal governo di primo livello, la buona parte, ormai anche perché sarebbe difficile gestire diversamente, dà per assodato che i DPCM rappresentano l'ultimo pezzo di una strategia politico-giuridica che porta a garantire il benessere, l'interesse collettivo, l'interesse generale, e la collettività a fronte di uno strumento che comunque rimane giuridicamente discutibile, però sostanzialmente va in quell'ottica. E la Costituzione riconosce che in queste circostanze il governo può agire in questo senso. Ma può agire per così lungo tempo? È certo che un tema interessante è questa. L'emergenza di per sé ha una durata, non possiamo quantificarla, ma proporzionarla a un'azione di governo che deve avere ragionevolmente una durata piuttosto breve. Talche l'ultima prologa dello stato di emergenza ha creato forte discussione, sia politica sia giuridica, perché collide un pochino con conviviamo con il coronavirus. Allora a questo punto l'emergenza è compiuta, bisogna guardare avanti. Veniamo ai principi della Costituzione. Lei ha già citato qualche articolo. Innanzitutto siamo una Repubblica fondata sul lavoro. Non sembra? Questo mi fa venire in mente l'ultimo libro che ho concluso, questa discussione fin dal 1956 sulla precettività di questa norma. Che cosa vuol dire? Allora se siamo fondata sul lavoro posso pretendere che la Repubblica dia un lavoro a tutti? Talche nei primi anni della Repubblica c'è giurisprudenza costituzionale che è del lavoro per la precettività, cioè il fatto che la norma sia possibile farla valere davanti a un giudice. La norma non è solo programmatica, non è solo di valore, non è solo di principio, è anche precettiva, ma non tanto da creare questa circostanza. Venendo a noi sul tema del lavoro, Ora è chiaro che la Costituzione, il lavoro, lo ha individuato come il perno intorno al quale costruire una società, la persona lavoratrice. L'articolo 4 parla della partecipazione alla formazione, in modo spirituale e materiale, alla creazione di una società. Cioè il lavoro è il perno intorno al quale costruiamo, il Costituente ha pensato ed è così stato, costruiamo il futuro, la società del futuro, perché sappiamo come eravamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La mancanza, la carenza, la difficoltà, quando leggo i dati di disoccupazione, soprattutto under 30 anni, preoccupa molto, è una grossa preoccupazione, però se la guardiamo in prospettiva c'è ancora di più da preoccuparsi, perché arriverà la sospensione del divieto di licenziamento, la sospensione graduale anche della cassa di integrazione, il tema del lavoro, la tecnologia, il cambiamento, l'intelligenza artificiale che va a sostituire posti di lavoro. È chiaro che il recovery plan e i draghi hanno uno scopo, quello di creare opportunità generative di nuovi posti di lavoro. Non ha risposto alla mia domanda però, professore, perché non stiamo chiedendo allo Stato di garantire un posto di lavoro, ma stiamo chiedendo di lasciarci lavorare là dove il lavoro già ce lo abbiamo. Quindi il tema è non solo di creare nuovi posti di lavoro, ma di garantire quelli già esistenti. Sì, sì, questa è una sfumatura molto importante, perché se noi consideriamo lo Stato di emergenza e i poteri del governo, il governo come può limitare la libertà di circolazione, a tutela l'utilità sociale, parla la funzione sociale di che cosa? Della proprietà e dell'iniziativa economica, può limitare anche quelli che noi chiamiamo i diritti economici, economici, a tutela della salute di tutti. Ma fino a che punto? E questo è molto interessante, perché a un certo punto bisogna chiedersi fino a quanto si può arrivare a questo. È chiaro che la Costituzione non si pone questo dubbio, perché immagina che un governo nella fase emergenziale ne voglia uscire, e volendone uscire arriva in una situazione ordinare dove le libertà sono liberamente, scusate, godute. Ecco, e questo quindi significa che è stato violato questo articolo, in parte. A un certo punto, al di là delle singole disposizioni, è chiaro che la fase emergenziale è durata troppo. Ecco, e soprattutto non è ancora finita, stando ai DPCM ancora... È ancora in arrivo. In arrivo. In arrivo e anche in considerazione del fatto, che è indiscutibile, che all'avvento dell'autunno siamo arrivati in preparazione. Lo ha citato prima lei, il diritto allo studio. Il diritto allo studio poteva essere violato per un'emergenza per pochi giorni, per una settimana, per un mese. Siamo ad un anno dalla chiusura della scuola. Lei è anche un docente. Su questo mi trova molto critico, nel senso che mi immagino quanto sia facile scrivere una semplice disposizione di una riga e tenere 12 milioni di ragazzi a casa e gestire intanto un'emergenza. Ribadisco, è comprensibile in una fase emergenziale breve, però così a lunga durata no, perché gli effetti negativi sulla formazione, sull'educazione degli studenti sono troppo incidenti. Articolo 14 e 17, ovvero l'inviolabilità del domicilio, ma anche il diritto dei cittadini di riunirsi pacificatamente. Addirittura è stato violato il diritto della famiglia. Io ho trovato quella previsione normativa dispodica. Cioè a un certo punto... Uno stato di regime. A un certo punto, io adesso non ho con me una statistica sulla applicabilità, sull'applicazione di quella norma, l'ho trovata fin dall'inizio, mi ricordo vari commentatori, palesemente in contrasto, perché poi sul domicilio la legge speciale prevede i casi. È vero che c'è anche il tema della salute, ma è la salute verso l'esterno, non solo verso l'interno. Sulla libertà di riunione è chiaro che l'ordine pubblico e la sicurezza sono due requisiti che difficilmente si riscontrano rispetto alla previsione limitante. Però a monte c'è la limitazione della libertà di circolazione, che la si può fare per motivi di salute, tranne che politici. Quindi tutte le leggi vengono meno se noi invochiamo quindi questa emergenza, ma lo ha detto lei, se questo ha una durata specifica. Quindi la durata deve essere proporzionale e deve essere chiaramente non eccessiva. La Costituzione non dà una quantità di tempo, chiaramente. Ma il buon senso che ci fa capire che questo è proprio... Certo, il buon governo, io direi. Il buon governo che a un certo punto, se sei stato costretto a una fase emergenziale, dando poi anche prova di un modello che è stato riprodotto in altri paesi, ribadisco, io se posso permettermi un'analisi fuori da denti, ritengo che siamo arrivati all'ottobre e comunque all'autunno non preparati. E questo ha trascinato una situazione che a un certo punto è. Ma anche tutte le misure adottate dopo sono fallite, perché ci è stato detto non festeggiamo il Natale, siamo chiusi, eccetera, senza però aver ottenuto il risultato sperato, perché di fatto oggi ci ritroviamo nella stessa situazione. Quindi queste misure non sono servite? Queste misure in effetti non hanno mantenuto la promessa. Siamo in una fase in cui c'è troppa incertezza, secondo me, nel quadro complessivo, anche rispetto al tema della vaccinazione, le fasce di età, il sistema se è pronto. È chiaro che nel momento in cui uno voglia approntarsi a una fase emergenziale deve mettere sul tavolo tutti gli aspetti e coordinarli. Siamo negli ultimi tre o quattro mesi in una fase in cui c'è un po' di contrapposizione tra i provvedimenti, le strutture amministrative per come sono pronte e i dati, perché comunque i dati fino a qualche giorno fa erano più tranquillizzanti. Quindi di fatto, lei non vuol dire, lo diremo noi, la Costituzione è stata violata? La maggior parte dei costituzionalisti è molto severa e non mi sottrago. Sono più un sostanzialista io nel senso a un certo punto al di là della forma inevitabilmente anche con un'altra forma più complicata l'avrebbero potuto fare. Perché gli esperti di diritto non si sono opposti? Ma c'è stata un'iniziativa con una lunga lettera sottoscritta da molti costituzionalisti sottoposta al Presidente della Repubblica che difficilmente poteva intervenire. Dal punto di vista giurisdizionale non ci sono casi significativi, impugnative del DPCM o altri ricorsi di fronte alla Corte Costituzionale che hanno, diciamo, messo in evidenza l'incostituzionalità tal che il DPCM nella sua con un contenuto diverso però è oggi ancora sul tavolo di questo nuovo governo come strumento limitativo. Lo aveva previsto il professor Giulio Tremonti già ad ottobre aveva detto è stata violata la Costituzione la crisi sarà irreversibile e di fatto poi così è stato. Secondo lei avremmo potuto evitare tutto questo se il Presidente Mattarella avesse sciolto le camere? Bisogna pensare quando, contestualizzare quando perché chiaramente lui in questa fase sarebbe in difficoltà se si avesse deciso scusate, prima della nomina di Draghi perché comunque o si pensava a un'elezione tra settembre e ottobre o dopo si sapeva che comunque a un certo punto sarebbero rialzati gli indici. Non ci aspettavamo un apparato a un pubblico così non pronto a questa seconda ondata. Diciamo che sono molti a credere che saremmo potuti andare ad elezioni. Allora precisiamo una cosa il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica è un potere che condivide con il governo perché comunque il decreto di scioglimento va controfirmato dal Presidente del Consiglio è inevitabilmente che tu sciogli il Parlamento questa è una forma di governo parlamentare la centralità sta nell'organo che detiene la sovranità del popolo ci vuole dico così qualche parola un po' imprecisa un accordo col Parlamento il Parlamento non voleva essere sciolto questo Parlamento voleva comunque andare a compimento anche perché a settembre c'è stato un voto referendario che ha decretato l'espressività l'espressa volontà di non essere sciolto. Veniamo a questo governo Draghi indiscutibile ha risollevato il popolo italiano da questo stato di depressione che oramai era generale ma insomma Draghi in questo momento si trova al governo con tante forze che insomma non hanno nulla o quasi in comune a cominciare dal centro-destra anche il centro-destra appare un po' insomma come dire spaccato tra sovranisti e la frangia più liberale sì sì allora chiaramente all'elettore pensare che ci sia un governo in cui ci sia la Lega 5 Stelle il PD Forza Italia si dice ma che cosa è successo che minestrone stiamo cucinando però se contestualizziamo nel fatto che siamo in una fase emergenziale è giusto pensare che siano tutte le forze politiche a condividere due cose fondamentali il piano di vaccinazione che deve essere serio e pronto e la riscrittura del nuovo recovery plan perché sono 209 miliardi che vanno impegnati entro il marzo del 2023 e spesi entro la primavera del 2026 vuol dire un sacco di soldi che nella prossima legislatura ricordo che a marzo del 2023 andremo anche a votare la nuova legislatura comunque vada un anno prima eleggiamo anche il nuovo presidente della Repubblica cioè fra nove mesi c'è una partita importante pensare che un governo d'emergenza abbia il sostegno di tutte le forze politiche o quasi perché qualcuno non ha è già un miracolo secondo lei l'assemblea costituente è stata scritta da cattolici monarchici perché c'era anche una fazione fra i liberali di monarchici c'erano socialisti comunisti che hanno condiviso in una fase non emergenziale l'interesse generale l'interesse della nazione è messo da parte le idee invece di partito ma quanto potrà durare tutto questo quindi? è chiaro che a tempo determinato nel senso che c'è una fase importante che sono questi due compiti vaccino e il recovery plan ma poi c'è l'elezione del presidente della Repubblica questo governo è quello che eleggerà il presidente della Repubblica e pensare che questo governo sia sostenuto dal 90% delle forze politiche rassicura rispetto al fatto che si vada verso l'individuazione di una persona che vada bene a tutti ma non che vada bene a tutti che accontenti tutti che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze sai in una democrazia l'equilibrio tra maggioranza e minoranza sono fondamentali ma più la maggioranza è solida e forte più si soddisfano i bisogni di tutti questa figura potrebbe essere Draghi quindi? è chiaro io se avessi scommesso avrei scommesso che Draghi sarebbe andato solo al colle ma la situazione aveva ha portato il presidente della Repubblica a pensare di giocare il suo jolly in questa fase e le reazioni positive sui mercati finanziari e interno del paese si sono viste sono tangibili quindi lei condivide questa scelta di Mattarella di favorire la formazione di questo governo tecnico guidato da Draghi questo significa che il presidente Mattarella e Renzi hanno salvato l'Italia allora allora questo governo tecnico e politico perché definirlo solo tecnico non è completo ma ma Renzi ha giocato la sua partita ha giocato la sua partita non sono sicuro quanto abbia pensato solo al bene del paese perché in effetti come ho detto c'è un grande interesse sull'impiego di quei soldi è chiaro che decidere come impiegare quei soldi è meglio che fare una buona campagna elettorale è chiaro che il regista della coda di questa legislatura è spendibile o al colle o in un altro momento bisogna vedere gli interessi che si ha che ha Draghi è l'uomo giusto per per stendere il piano qualcuno potrebbe dire avremmo potuto chiedergli solo di stendere il piano però gli effetti positivi sono di grande importanza e sono stati immediati la partita complicata secondo me è pensare riuscirà a fare tutto questo prima dell'elezione del colle il 30 gennaio 2022 se riesce a farlo Mattarella ha portato a casa un doppio risultato perché dopo è facile che Draghi andrà al colle ma se così non fosse non può fare entrambe le cose in tutto questo che ruolo ha giocato Berlusconi? Si è rivelato ancora una volta determinante? Sì io ritengo di sì ritengo di sì ancora Forza Italia moderata liberale comunque queste forze di centro ma come anche parte della Lega ha giocato un ruolo fondamentale rispetto alla scelta di Giorgetti di aderire a questo progetto Forza Italia sì con le sue spaccature abbiamo visto che con il voto di fiducia alla Camera due deputati due senatori scusate sono passati a sostegno di Conte e perciò sono fuoriusciti ha giocato ancora quel ruolo di equilibrio rispetto a un centro-destra che apparentemente adesso è spaccato ma è nel ruolo nel gioco delle parti Certo altra problematica infatti è stato il mercato dei parlamentari su cui se non sbaglio un suo collega aveva anche presentato un progetto di legge affinché in qualche modo si vietasse di saltare la barricata che cosa ne pensa di questa legge costituzionale sull'introduzione del vincolo del mandato qui si vanno a toccare quelli che sono gli elementi essenziali primordiali dello Stato liberale il libero mandato il parlamentare eletto nella circoscrizione rappresenta la nazione poi il libero mandato è quella caratteristica di una democrazia per cui il parlamentare non è tenuto a dover rendere conto al suo elettorato anche per evitare che sia obbligato magari non a rispondere a un elettorato diffuso del proprio territorio ma a qualcuno che sa alzare la voce rispetto agli altri perciò quello che per noi è un concetto negativo negli Stati Uniti invece positivo sono i gruppi di pressione i gruppi le potenze che possono incidere allora il libero mandato fin dall'inizio ha questo compito di permettere una democrazia permettetemi libera liberale 5 Stelle propone la proposta fin dall'inizio il collega ha pensato a quest'idea per cercare di serrare un pochino le file alla fine sei entrato in America in alcuni stati come la California c'è un istituto per quale tu puoi revocare un parlamentare per noi un concetto naturalmente per ora è inaccettabile inconcepibile ma non solo dal punto di vista dell'oppognione pubblica proprio dalla cultura giuridica pensare che un parlamentare possa essere revocato vuol dire che la sovranità è trasferita a tempo determinato è trasferita a verifica una verifica periodica ma l'idea originale della democrazia non è questa perché la legislatura ha una sua durata la democrazia prevede che si possa cambiare idea certo che si possa cambiare idea il punto è come prima come quanto cambiare l'idea perché adesso a un certo punto è chiaro che calarsi nella democrazia calarsi soprattutto nel ruolo di governo ti mette alla prova con ad esempio situazioni che non avevi previsto in campagna elettorale chi aveva previsto la pandemia chi aveva previsto altre crisi economiche che hanno colpito poi parlare tanto in campagna elettorale poi doversi trovare a fare qualcosa che si pone in contrasto bisogna vedere fino a quanto in contrasto con almeno speriamo e ci sono ancora i valori fondativi di un movimento e di un partito politico Conte che ora sembra essere al centro della divisione del movimento 5 stelle ma che insomma è lì sembra oramai cosa fatta sarà lui a guidare il movimento e che cosa ne pensa? Allora Conte ha raggiunto un altro tasso di gradimento fra gli italiani a coda dell'emergenza tal che era poi stato deliberamente attaccato dalle forze di opposizione io lì in quel momento anche dalle forze di maggioranza ah certo questo è vero certo mi sono detto mi sono detto se Conte mai decidesse di calarsi all'epoca qualcuno vociverava di un scioglimento delle camere che poi come abbiamo detto non è avvenuto lo sappiamo si calasse in una dimensione molto politica e fosse capo di un partito secondo me se ricordiamo Monti ricordiamo che Monti non riuscì a ottenere assolutamente un buon risultato io la prevedevo così adesso la situazione è leggermente leggermente diversa perché lui ha deciso di dimettersi si è dimesso perché aveva una maggioranza relativa nella camera al senato pur avendo la salute e perciò sapeva che era un po' zoppicante calarsi così nella politica e buttarsi così esplicitamente a capo di una forza politica bisogna avere delle capacità bisogna avere delle caratteristiche che fuoriescono un po' da quelle del ruolo di professore si è montato la testa? secondo me è il rischio che qualcuno gliela faccia un pochino montare e si sbilanci perché comunque lui potrebbe essere lui di chiudere chiaramente sarà soddisfatto di quello che ha fatto come è finito gli lascia un po' la mano in bocca e facilmente sarà indotto a non escludersi del gioco dai giochi però questo secondo me non porterà a un buon effetto da punto di vista dell'opinione pubblica torniamo quindi al titolo quinto torniamo quindi al tentativo fallito di riformare la costituzione ve ne sono stati due peraltro di tentativi nell'arco di dieci anni 2006 e 2016 votò sì in entrambi i casi? devo mantenere un po' di riservo sulla prima su entrambi essendo sempre chiamato a fare un po' moderatore nei vari incontri tra i comitati del sì e i comitati del no ma da costituzionalista insomma vi erano anche un po' gli stessi principi anche se una riforma venne proposta dal centro-sinistra e una dal centro-destra se vogliamo riassumere nel fatto che sia la riforma del 2006 denominata devolution sia la riforma Renzi del 2016 erano riaccentratrice di poteri questo è vero questo è vero soprattutto sulle competenze legislative ricordo bene la seconda che aveva alcuni aspetti molto pasticciati nella ridefinizione delle materie quello che è emerso in vari sondaggi svolti nella fase della crisi emergenziale che gli italiani c'è un sondaggio di una società inglese che gli italiani gradirebbero due cose in futuro uno che ci fosse meno privatizzazione della sanità e l'altra che ci fosse una maggiore riallocazione allo Stato della determinazione degli aspetti sanitari anche se in effetti la determinazione dei livelli essenziali di quello che concerne diciamo il minimo vitale la cura essenziale è già una competenza esclusiva dello Stato abbiamo visto come quando qualche regione ha provato a ridurre il livello di sicurezza lo Stato è intervenuto che cosa secondo me Conte in un certo punto è intervenuto e l'ha spiegato bene lo standard minimo l'ho detto allo Stato le regioni possono aumentare lo standard di sicurezza ma non lo possono diminuire questo adesso è anche abbastanza chiaro quindi secondo lei la sanità dovrebbe tornare tema non nella sua organizzazione ma nella definizione di quelli che sono diciamo i diritti i livelli essenziali deve essere garantita a tutti deve essere garantita a tutti e in ugual misura in ugual misura ma l'organizzazione non può essere ricentralizzata e diventerebbe troppo disperdiosa e di queste ore la decisione della consulta di rigettare il ricorso della Val d'Aosta contro il DPCM ecco queste regioni autonome che hanno ottenuto queste autonomie di fatto non sono riuscite ad esercitare i loro diritti in questa fase essendo la salute una materia dello Stato anche le regioni a statuto speciale si devono adeguare c'è un braccio di ferro con la provincia di Bolzano quale lo Stato ha deciso di stare un pochino a guardare ma le regioni a statuto speciale che vantano comunque un'autonomia differenziata anche su questi temi si devono adeguare perché abbiamo capito che comunque la gestione lo posso dire non è solo locale provinciale regionale posso dire anche che non è solo nazionale però in realtà l'Europa ha fallito in questo in realtà questi compiti ancora come siamo con il vigente trattato di Lisbon aspettano più agli stati membri che all'Unione Europea perché la chiusura dei confini le politiche sanitarie sono di competenza degli propri stati se voglio aprire o chiudere un confine lo decide posso derogare Schengen e poi ne risponderò di fronte alla Corte di Giustizia come posso anche decidere di fare i vaccini non fare i vaccini di fare certe politiche interne l'Unione Europea secondo me quello che poteva fare lo ha fatto cioè cercare di dettare una linea cioè quella necessità di portarsi avanti sulla vaccinazione l'idea quando l'Unione Europea è intervenuta con l'acquisto con l'ordine dei vaccini per l'Europa per i vari stati membri e poi l'Europa ha fatto una cosa che non è mai successa cioè decidere attraverso se stessa con le spalle degli stati membri di fare un grosso indebitamento per cercare di rilanciare il sistema economico teniamo conto che il bilancio dell'Unione Europea è molto irrisorio rispetto all'indebitamento che fa a favore degli stati membri con la garanzia degli stati membri chiaro è quindi secondo lei in realtà l'Europa ha fatto ciò che doveva fare purtroppo siamo in un sistema intergovernativo per cui queste decisioni non sono in capo all'Unione Europea come organizzazione ma sono in capo agli stati che essendo un sistema intergovernativo o decidono sappiamo come sempre quanto pesa la Germania quanto pesa la Francia o altrimenti è difficile portare avanti lei sarebbe a favore degli stati uniti d'Europa allora questo rilascia una lezione che ho fatto l'altro giorno a degli studenti a quale va sempre il mio saluto agli studenti in particolare affetto allora l'idea il progetto degli stati uniti d'Europa può avere diverse sfumature sono a favore di fronte al fatto che abbia di per sé in questa fase un passaggio importante in questo momento l'Europa ricordiamo nasce come l'Europa della pace perché comunque vada l'Europa fino al 2004 nel 2005 ai referendum negativi della Francia dei Paesi Bassi sulla Costituzione Europea che abbiamo scritto ma poi non abbiamo voluto abbiamo ridimensionato con un trattato più semplice ma comunque evolutivo ha avuto un alto tasso di gradimento di piacimento poi con la crisi finanziaria l'Europa è cominciata a non piacere in questa fase l'Europa si può riscattare secondo me ed essere un organo essere un'organizzazione sovranazionale di coordinamento passando da un'organizzazione che nasce per perseguire la pace a un'organizzazione che persegue la sicurezza perché vicino al tema della sanità c'è il problema della sicurezza sociale l'Europa incide anche su questo tema dovrebbe incidere ma per farlo bisognerebbe destinare fare quel passo più avanti mantenendo le sovranità interne necessarie i temi cari naturalmente alle forze politiche nazionali e permettendo perché abbiamo visto che in una fase emergenziale comunque c'è bisogno di un quadro mondiale impensabile oggi giorno ma anche europeo invece potrebbe dare i suoi benefici pensiamo solo al rapporto con gli stati confinanti anche i più recenti dichiarazioni dei più agguerriti anti-europeisti non sono più di quel tono anche l'Ungheria? ma io mi riferisco adesso in questo momento ai nostri nazionali l'Ungheria gioca sempre un ruolo e i personaggi che capeggiano il governo ungherese sono un po' un po' particolari l'Ungheria come altri stati questa idea sempre di opporsi nei confronti dell'Unione Europea serve per avere un vantaggio interno politico professore lo statuto della provincia di Sondrio a che punto è? e soprattutto abbiamo parlato di autonomia abbiamo parlato anche dei tentativi di riformare la Costituzione però sappiamo anche che è stata approvata una legge la del Rio che però non è stata mai applicata o solo in parte solo in parte solo in parte nel senso anche se comunque la del Rio ha completamento ha diciamo lo svuotato di funzioni nelle province ridotto di secondo livello cioè elettive da sindaci consiglieri non più dal popolo a che punto siamo dell'autonomia io a che punto siamo anche dello statuto qualche idea ce l'ho l'ha scritta lei no? io ho scritto una versione di uno statuto che cerca uno statuto d'autonomia di valorizzare nel quadro giuridico che abbiamo perché ormai lo dico spesso scrivere i libri dei grandi sogni lo possiamo fare però dobbiamo declinarci sulla realtà nella realtà e confrontarci con l'attualità noi abbiamo un quadro legislativo adesso che non è andato a compimento perché la legge del Rio seguiva un percorso costituzionale che è tramontato che cosa facciamo con quello che abbiamo da quello che poco si può fare poco ricordiamo che la Lombardia ha approvato la legge 19 attuativa della legge del Rio della specificità che dà grande risalto e grande grande spazio in termini di autonomia alla 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 provincia però è fermo è un pochino tutto fermo ma il disegno non prevedeva la chiusura delle comunità montane e quindi una regia unica che fosse la provincia la chiusura con le forze le energie che queste comunità montane avevano in essere la chiusura è una parola un po' forte usiamo questa espressione nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma l'idea è che le comunità montane si trasformino questo avviene in natura normalmente ma invece in maniera artificiosa utilizzo questa espressione questa formula per dire che in realtà il disegno prevede che tutte le comunità montane interagiscono direttamente facendo parte di un ente che si va a rinforzare il tema è quello delle zone omogenee individuare quelle che sono le comunità montane come articolazioni della provincia evitare sovrapposizione concentrare in termini sinergici che cosa il capitolo professionale umanale presente e le risorse collaboratori e le risorse e le risorse la legge 19 prevede una disposizione particolare e per presidiare invece i territori rimarrebbero queste zone omogenee con un'articolazione giuridica per cui ha una previsione sia di un organo diciamo politico funzionante sia inevitabilmente di un ufficio amministrativo però senza portafoglio insomma l'idea che il portafoglio sarebbe un unico ma diviso al suo interno in cinque ambiti la vedo un po' scettico però su questo tema nel senso che non crede che regione Lombardia porterà a compimento questo percorso allora io credo che questo percorso può essere foriero di nuove opportunità la stesura dello statuto d'autonomia della provincia di Sondro può essere un'opportunità importante in questa fase non faccio una valutazione specifica sui determinati livelli di governo però questo tema temporaneamente già da un po' è un po' abbandonato a sé sostengo che possa essere un'opportunità importante per il territorio professore ho tenuto per la chiusura del nostro incontro il tema della montagna e di tutti gli effetti negativi che questa pandemia ha prodotto per la montagna e il sistema montagna a cominciare dalla chiusura forzata degli impianti di sci da giurista quello che è accaduto come può essere letto in questo caso non vi è stata una violazione l'aver promesso fatto credere che saremmo giunti alla riapertura degli impianti di sci dire che quando ho preso quella notizia di quella domenica pomeriggio ho sperato che fosse una fake news non peraltro perché un'azione di questo tipo adesso senza entrare in aspetti giuridici è delegittimante cioè arrivare a poche ore prima di un traguardo annunciato per il quale c'è operatori impiantisti tutta una catena economico sociale valoriale che ha lavorato per questo arrivare a poche ore prima con un'uscita del genere faccio una battuta questo ministro ha tolto ogni speranza e sì il ministro speranza e io l'ho trovato proprio politicamente strategicamente un autogono nel merito bisogna bisogna cercare a un certo punto torniamo al tema di prima bisogna avere una previsione bisogna prendere un calendario e dare delle certezze e rispettarle professore ma questo non è mai stato fatto è questo che noi chiediamo lei mi vuole portare a fare delle affermazioni forti però non è mai stato fatto ma il tema è che non è ancora finita gli impianti restano chiusi e le piste restano aperte oppure no professore dove sta insomma la verità la verità sta che il modus operandi non è quello corretto non si può pensare di fare una previsione normativa che riguardi la pista e l'impianto ed escludere poi l'area antistante bisogna avere una visione globale come si fa a capire lo sciatore che può sciare fuori pista ma nella pista perché è chiuso l'impianto no qui un problema che ho cercato di evidenziare il problema è che bisogna lavorare in un certo modo bisogna conoscere la montagna conoscere le caratteristiche e avere perciò un'attenzione una competenza sul come scrivere queste norme ho trovato anch'io il fatto che questa previsione normativa fosse a monte sbagliata a monte incompleta e perciò portasse di conseguenza poi con l'aggravio delle modalità un risultato negativo una reazione ovviamente e legittimamente di stupore e anche un po' di fastidio e di arrabbiatura è mancato anche un po' il buonsenso ma si guardi ogni tanto adesso mi sbilancio un pochino mi chiedo anch'io se un problema sia giustificabile in fase emergenziale parliamo di un anno fa adesso il buonsenso dovrebbe esserci e non dovrebbe mancare a un certo punto ci si chiede c'è bisogno di una cabina di regia c'è bisogno di un'intersectorialità ma questo ad oggi dovrebbe già esserci la motabilità di operare dovrebbe già essere consolidata è un problema di decisione ma su come fare bisognerebbe ormai essere forti professore siamo alle conclusioni facciamo sintesi per i nostri tre spettatori su quanto abbiamo detto oggi e anche sulle ipotesi di violazione della costituzione allora io parlerei di un tema di sospensione dei diritti parlerei di una di una democrazia temporaneamente sospesa in questa fase emergenziale però dicendo ai nostri telespettatori che è giusto aspettarsi che a un certo punto si ripristini una democrazia perché la sospensione dei diritti la sospensione della democrazia è a tempo determinato è come lo yogurt scade presto e se scade presto bisogna pensare al dopo e bisogna pensarlo in fretta non si può continuare a pensare di sfidare così tanto la pazienza dei cittadini perché a un certo punto ovvio che il sistema di per sé va in crisi la democrazia è matura e vive serenamente il suo essere quando i cittadini si trovano in uno stato di benessere in un rapporto equilibrato e di fiducia delle istituzioni su questo chiudiamo augurandoci di poterla vedere presto e sperando che non si debba ricorrere ad una rivoluzione per poter ritrovare la serenità e quella democrazia di cui abbiamo parlato tante volte speriamo di no e speriamo che chi ha responsabilità cominci a rispettarle e a farle in un certo modo buon lavoro professor Bruno Giacomo Russo grazie a lei e grazie agli spettatori Grandangolo vi dà appuntamento venerdì prossimo arrivederci grazie a tutti